Buongiorno a tutti oggi mi trovo in Thailandia, precisamente nell'isola di Koh Samet. Questo che vi sto per mostrare è il bolide che sto guidando da qualche giorno. Ci tratta di un Honda Click 125i perché è iniezione, è un 4 tempi come potete vedere, conta chilometri generoso fino a 160 km orari. Comunque è un modello nuovo perché ha solo 4.000 km, 4.500 se non sbaglio. Possiede il sottosella, si chiama click perché... questo funziona bene... click perché quando premi il tasto sit si è appensato a sella. Il tappo della benzina in ferro. Questo ti dice addirittura quando fai i tagli anni. Poi per chiuderlo, pacca secca, ok. Questo è il motore. Il radiatore l'hanno messo qua, non so per quale motivo ma l'hanno messo qua. Questo è il pezzo forte, cornice targa di Doraemon, pedalina se ci rimane a piedi, cavalletto laterale come optional, pinza freno Nishin, cerchi a raze stupendi con gomme V-rubber. Questa davanti è ancora a posto. Questa è la cicatrice perché qualcuno è caduto. Tipico bambino thailandese questo. Questo non so cosa sia. Non so che roba sia questa. Mi sono accorto adesso. Adesivo tipo santino. PGM, il di stop. Ah sì perché c'è il tasto il di stop. Pompa freno Nishin. Beh qua non c'è nient'altro. Dietro taburo magico ovviamente. Marmitassa originale. Iniezione. Vediamo. 4500 chilometri. Ah giusto. Illuminazione full led. Cattivissima. Peccato che punti verso il cielo non si vede nulla di notte. Che altro dire. Solo accendiamo. La ruota va da sola. No si ferma adesso. Perfetto. Vedete questa strumentazione. Bene. Non so quanto faccia al massimo perché qui è impossibile tirarlo con tutte le buche e i dossi che ci sono. Però mi dicono che dovrebbe fare i 120 segnati. Ci credo molto poco. Bene. Alla prossima. Alla prossima.